La Regione ha già annunciato il commissariamento ma non è andata oltre. I consigli comunali della provincia di Egrigento di conseguenza possono ancora approvare lo statuto dell'azienda speciale consortile. E' conto dichiara il sindaco di Sciacca e presidente dell'ATI, Francesca Valenti. Proprio domani è in programma la seduta del Consiglio Comunale e tra i punti all'ordine del giorno c'è proprio la questione della futura gestione del servizio idrico integrato. C'è ancora tempo nel senso che in Consiglio Comunale per quanto riguarda il nostro comune il punto è già aperto perché già si è chiusa la parte della richiesta di chiarimenti quindi il Consiglio Comunale deve procedere nell'esaminare questa proposta. Credo che sia un passaggio fondamentale almeno dal mio punto di vista. Abbiamo tutti quanti voluto a gran voce una gestione pubblica nella forma dell'azienda speciale consortile e quindi secondo me su questa strada si deve proseguire. Però è evidente che la parola è rimessa ai consigli comunali, quindi al Consiglio Comunale che su questo dovrà adottare la decisione che riterrà più opportuna. Non solo l'acqua all'ordine del giorno, anche il dibattito politico e il sindaco Francesca Valenti così replica alla componente Cusumano che la scorsa settimana ha definitivamente preso le distanze dalla sua amministrazione. Il senatore Cusumano in questa manifestazione ha ribadito posizioni che già aveva assunto lo scorso mese di novembre quindi non sono delle posizioni nuove di fatto. C'era stato una sorta di riavvicinamento, sembrava così? È stato sempre un discorso aperto e rimane un discorso aperto per quello che mi riguarda. Non ci sono mai chiusure, almeno da parte mia, con nessuno. Amministrare una città non è facile, amministrare una città come Sciacca ancora di più e quindi proprio per questo motivo la mancanza di numeri in Consiglio Comunale per altri due anni di consigliatura, altri due anni di amministrazione. Non pensa che possa essere ancora più complicato di quanto non lo sia già normalmente? Può darsi. Non dovrebbe essere così. Il Consiglio Comunale svolge appieno il suo ruolo e decide il Consiglio Comunale su proposte che riguardano la città. Io ritengo che le proposte vadano guardate ad una ad una in una logica di sereno confronto anche in una prospettiva di confronto sui punti, su ciascun punto e quello che serve alla città è quello che deve far decidere il Consiglio Comunale. La seduta consigliare di Sciacca si svolgerà ancora in modalità mista nonostante le contestazioni dell'opposizione. È giusto così, dice Francesca Valenti. Non credo che sia una modalità che blocchi i lavori del Consiglio né tantomeno che possa essere di impiccio rispetto ai lavori del Consiglio. e questo è un momento delicato, continua ad essere un momento delicato. Certamente non siamo usciti dall'emergenza Covid quindi che ciascuno possa valutare se essere in presenza o essere a distanza nel rispetto delle regole, della legittimità degli atti e della partecipazione comunque al Consiglio Comunale credo che debba essere rimesso a ciascuno. Lei domani sera andrà in aula? Ci siano polemiche al riguardo. Quindi questo io ancora oggi non lo so.